Manuel Vescovi, il 6 e il 7 novembre in Toscana ci saranno numerose manifestazioni che poi culmineranno con una manifestazione nazionale a Bologna, l'Otto, molti pullman che partiranno anche dalla Toscana, Liberiamoci è il titolo, liberiamoci da cosa? Liberiamoci dal pensiero di aiutare sempre i clandestini e non pensiamo agli italiani, liberiamoci da una fiscalità che è assurda, 40, 50, 60% di tasse, noi diciamo 15% fisso, se evadi va in galera, liberiamoci da questo sistema di fare burocrazia, liberiamoci da tutte queste cose, 6, 7 in Toscana avremo molti presidi, davanti le agenzie di Equitalia, davanti la prefettura, davanti agli ospedali, gli ospedali diremo no al pagamento dei parcheggi in ospedale, secondo noi quando uno va in ospedale il parcheggio deve essere gratuito, perché non va per divertirsi, non va per la spesa, ma va per trovare delle persone che hanno bisogno di un saluto, di un sorriso, questa è la nostra filosofia, davanti alle prefetture diremo no ai clandestini, sì agli italiani, davanti all'agenzia di Equitalia diremo fiscalità, sì al 15% stop, ecco questa è la nostra visione di Italia.